bella a tutti i ragazzi qui trovate no 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 sono spawnato sono spawnato nell'acqua brutta cosa ok allora un attimo che abbasso il volume della tv sono in barca ma voi non potete vederlo wow già bacca bene questa è la nostra nuova vanilla l'ho chiamata lg l punto g punto va spazio vanilla e perché l'ho chiamata così perché lo fanno tutti gli youtuber però io l'ho chiamata l l punto g punto vanilla allora l'ho preso e ora prendo un po di legno all'ecqua ora spaccherò questo albero ok siamo ritornato ho dovuto mettere la creativa per era in oro ho preso il caschetto in oro grazie a lui dovrà prendo tutta questa legna e andiamo un attimo ecco tutta la legna su un attimo che ne facciamo un altro sbaglio ecco ora mettiamo 28 di legno allora se troviamo il bosco bello ecco hai cazzo no 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 cambuli cambuli è tutta ora non sii non sii non può no 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 constant raga protezione 2 cavolo ragazzi no è impossibile prendiamo la legna che ho pezzato per sbaglio prendiamo la legna che ho pezzato ci facciamo una bella crafting table mettiamo la legna base fatta prendiamo altra legna dietro ho visto che ho messo per sbaglio della legna in più ecco tipo il basso bene ho capito il trucco ok prendiamo questo dobbiamo prendere altra legna quindi da questo albero e metto un attimo in paura eccoci ragazzi con la nostra legna presa prendiamo il tetto completo così i ragni non vengono e per gli zombie che non vengono eccoci raggiunga bene porticelle ecco tre porte non so ecco ecco e quando avremo una fornaccia questa porta la metteremo a cuocere quindi ciao grazie per questa nuova vanilla e porterò un uovo un altro video per questa vanilla ciao